...pericolose. Oh, quasi senza speranza. Penso di avere gli uomini adatti. Stanno parlando di noi. Li farò entrare nella gang di Al Capone, spacciandoli come due inviati della mafia siciliana. Biglietti, prego. Jack, un latte. Due latti. Un latte, Jack. Un latte, Jack. Ho detto un latte. 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 Serve il signore Due latti Due cioccolate Su Jack Questo è di quello buono eh Lo vuoi liscio o con soda? Con soda, grazie Basta Beh, allo bambole Salve, avanti Come ti chiami? Mi chiamano Scarfaggio Lo chiamano lo Scarfaggio Che ridere, mi fa male il fegato Fatelo prendere anche se gli somigli Però neanche a me mi piace Ce l'hai un altro nome? Capone Capone, Capone, Capocione Al, al, al Al, al che? Al Al Capone Al Capone Mamma mia Mi scusi, mi perdoni Non lo faccio più Non lo faccio più Mi scusi, c'è stato un equivoco È stato un equivoco Mi scusi Però state attenti, guaglione Attenti a non equivocare troppo Perché da queste parti chi sbaglia paga salato Mi scusi Ok, ok E acqua passata Ora andatevi a riposare Agli ordini, Capo Tu resterai con loro Vedrete che a lavorare con me si guadagna assai E se siete in campo, come mi hanno detto, potrete vivere come due nababbi Questa è la tana di Bud Messina Dov'è la tana? Questa Ricordati quello che ci dissi Al Capone Deve sembrare un incidente Non ti preoccupare Ora io entro dentro Gli do una martellata in testa e non se ne parla più Eh no Eh che c'entra Una martellata non è un incidente E allora? Ma se lui cascasse dalla finestra Allora sì che potrebbe sembrare un incidente Hai ragione Ma chi glielo dice di buttarsi dalla finestra? Non bisogna diglielo Scusami Se tu non glielo dici Quel poveraccio come lo sa? Ma che c'entra Tu entri, lo spingi e lui casca dalla finestra Ah io entro Gli do una spinta Sì E lui casca Così Sì Ma è proprio così così no Ci vuole sempre un approccio Ah c'è anche lui Chi? Ambrogio E chi è? Il milanese Ma no Ambrogio Approccio Cerca di capire Ambrogio Nome comune milanese Approccio Aggettivo qualificativo di approcciamento Scusami io qui che debbo fare? Ma l'indifferente L'indifferente Adesso entriamo Parliamo più o meno di politica Di segnaletica Poi al momento opportuno Pritru Chiaro? Chiarissimo Ricordati soprattutto che noi non conosciamo Al Capone eh Non lo conosciamo Conosce Al Capone? No Bravo Eh Scusi Lei conosce Al Capone? Mi dispiace Sam Mai visto Bravo suona Chi vi manda? Al Capone Dimentichiamo l'amaro E pensiamo al dolce Amici Ecco la sorpresa che Al Capone ha preparato per voi Vi prego di alzarvi con piatti e coltelli e di tagliarvi una fetta di tutta Hai capito dobbiamo scappare siamo in pericolo Mamma mia C'è il gorille da una parte e Al Capone dall'altra parte E vai nel mezzo Già C'è ciò che facciamo? Scappiamo di centro Eccomi collega Oh 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 Fermati Non vi preoccupare sono il re del manubrio Ho fatto il centauri in via Napoli Ma che via Napoli? Ho sformato i sedi Vieni a lavare I fredi non funzionano ma basta la buona volontà Aspetta Attento che poi ci vediamo Ma che fate? Ve ne volete andare? Hai fatto l'imperto? Aspetta Sono a piedi Aspetta Ehi ma che fai? Farmi tutti Mani in alto Chiude la porta che c'è corrente Sei raffreddato? Sì Farmi tutti Mani in alto Il primo che si muove è un uomo vivo Morto Ah già morto Come mai tanto coraggio? Il coraggio è da tempo che ce l'abbiamo Abbiamo avuto sempre le mani legate E' vero Ciccio? Certo perché eravamo in missione segreta E ora siamo liberi Atte Dietro 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 Faccia il muro E domani tutti accompagnati con i vostri genitori Ma che stai dicendo? Silenzio Indietro anche tu Vai Polizia Oh scusami Thank you Si buple Pace Pace Papà Calogero Veramente grazie Non c'è di che Papà Calogero Si parte Si parte Si parte Si parte Si parte Ehi voce Beh Stavamo dicendo Non credete che in questa automobile ci sia qualcuno in più? No c'è qualcuno in meno Come 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 sarebbe? In meno perché il cane è il ciumurro poverino e non può viaggiare Ma noi stiamo andando in viaggio di notte E io questo non ho capito E allora E allora E allora cosa credete che vi lascio partire solo con le mie figlie è vero? Per cosa mi avete preso? Per ruffiare a me? Ma Don Calogero noi già ci siamo sposati Ma questo lo so io La gente non lo sa Ma 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 Amico mio io sono uomo onorato Adesso muovete Voi avanti a mettere in moto Vai Ma ma che dici? Io non ci capisco E ci capisco io Zitto Roba da macchina Uomo onorato sono Eh compaditelo Eh io qui Sì signor Non riesco a mettere in moto E per forza le macchine sono come i cani Riconoscono il padrone La mette in moto Eh va bene ma ma Calogero Oh non si arrabbi Dice in gioco il mio diritto di marito E anche il mio diritto di pace Perché Ma finalmente Come? Altro di Papa Calogero A me Intra A me Grazie a tutti